Che ne direste? Di 4 milioni di dollari? Può capitare a chiunque di ascoltare parole piene di speranza. Baciare una rossa è sempre stato un mio sogno. Bacialo, coraggio! Dai, avanti! Può capitare a chiunque di doversi prestare a un piccolo sacrificio pur di cambiare vita. Cominciate dalla città del ponte. Era originario di Albuente. Albuente significa il ponte. Inizia così un'incredibile caccia al mallò. Prima visione TV, papà hai trovato un tesoro. Io so che sono quel sogno. Domani sera alle 20.30 su Italia 1.